Oggi in ambito assicurativo si utilizzano tecnologie sempre più pervasive, basti pensare ai dispositivi che vengono installati a bordo veicolo, che ci offrono la possibilità di raccogliere volumi di dati sempre crescenti. Questi dati, integrati opportunamente con i dati derivanti dall'attività ordinaria delle compagnie assicurative, quali per esempio la sottoscrizione delle polizze o i versamenti dei premi, offrono notevoli opportunità perché nel momento in cui vengono storicizzati, elaborati ed analizzati, offrono la possibilità di estrarre valore e rendere le applicazioni e i casi d'uso sempre più intelligenti. Ovviamente in questo settore le tecnologie legate ai big data e al machine learning sono fondamentali. Proprio queste tecnologie sono in continua evoluzione, basti pensare al concetto di persistenza poliglotta o alle tecnologie che oggi utilizziamo in un contesto cloud, nonché alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale che oggi deve rispondere a dei principi di equità, trasparenza, riservatezza delle informazioni. Ecco, oggi per poter lavorare bene è opportuno avere delle competenze tecnologiche elevate e soprattutto essere continuamente aggiornate. Il Master in Insurance and Innovation offre la possibilità di avere un'opportunità di migliorare, approfondire e estendere le proprie competenze in ambito ICT nei contesti applicativi delle compagnie assicurative.